un giorno un cavallo un perebè e una margherita giallo mare se ne andavano a spasso per il mondo halt disse il gran maestro dei grigi sbucando da un cespuglio le margherite non vanno a spasso lo sanno tutti quindi la parola finisce qua no la margherita la porto con me disse il cavallo disse la margherita che era molto bene educata e i tre continuarono la passeggiata e il cavallo portava la margherita sulla groppa un momento disse di nuovo il gran maestro dei grigi chi ha mai sentito parlare di una margherita giallo mare il mare blu lo sanno tutti quindi la parola finisce qua oh no guarda quando il sole tramonta il mare ha tutti i colori disse il cavallo e i tre continuarono a girare il mondo in lungo e in largo fermi disse ancora il gran maestro dei grigi che era proprio uno scocciatore come mai tu che sai un cavallo parli e questa margherita mi ha appena detto ciao i cavalli e le margherite non parlano lo sanno tutti quindi la parola finisce qua ma no i cavalli parlano solo che gli uomini non li capiscono e la margheritina anche lei parla se no come faceva a salutare e i tre continuarono la loro passeggiata ridendo e scherzando fermi tutti disse ancora una volta il gran maestro dei grigi e va bene il cavallo parlante va bene la margherita giallo mare ma un perepè a che serve un perepè serve perché quando c'è uno scocciatore come te lui salta e fa ma un perepè a che serve un perepè a che serve un perepè a che serve un perepè ma un perepè a che serve 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 un perep